Potente a pari ragazzi, qua è Axelogio e mi cadono di Sola e sono qui a presentarvi su un nuovo video Che ragazzi è un altro pack opening Perché infatti ormai mi ha troppo preso questo FIFA World Cup Solamente c'è una piccola cosa, c'è un piccolo problema Che è un problema abbastanza grave, quindi non è piccolo Perché infatti come si può fare una bella squadra su questa modalità di FIFA Aprendo solamente i pacchetti Quindi quei ladruncoli dell'EA cosa fanno? Sono stati intelligenti perché alla fine non è che ti istigano Però ti mettono a disposizione una modalità abbastanza bella Nella quale tu per poterci veramente giocare e andare avanti Devi avere una buona squadra E come fai a costruire questa squadra? Comprando dei pacchetti, quindi altri moni alla EA Comunque oggi ho cambiato ancora Perché evidentemente i due in cui ho aperto i pacchetti erano abbastanza sfortunati Quindi eccoci qua Adesso sarà appunto un pack opening abbastanza ampio Di 180.000 crediti, quindi non so neanche se vi li farò vedere tutti Comunque vi volevo ricordare di postare la FIFA Con le stesse interessate a comprare i crediti FIFA E poi volevo ringraziare Ringraziare per cosa? Per tutto il supporto che mi state dando Perché siete veramente magici Quindi nel primo pacchetto non troviamo niente Se avete capito il collegamento Voi siete magici Quindi nel primo pacchetto non trova niente Perché si troverà tutto Nel secondo Secondo pacchetto Mio dio Stata Ture Torres Turo Torres Torres Altro pacchetto Chiudiamoglio 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 E si è n Dai non male Comunque ragazzi mi sono scordato di dirvi Che io non ho la facecam perché Perché si è visto che proprio quando ho la facecam Sono altamente sfortunato Quindi cerchiamo di sfatare il mito Che stava nascendo Diciamo nel più paccom Che appunto senza facecam Si trovavano le stesse cose di quando le trovavo Con la facecam Quindi niente Quindi dobbiamo sfatare questo mito Ebbene si Nuovo pacchetto Saltiamo Ti ho te Gialle Un culo Non culo Ragazzi io me ne vado un attimo Ditemi Di chi trovo Ditemelo E troviamo Benzema Isco Ayevoo Oh mio dio Tre buoni giocatori in un pacchetto Non male Me ne vado ancora un attimo Arrivo di corsa Arrivo di corsa Ditemi che troviamo Kutua Va bene Adesso me ne vado ogni pacchetto Buono Ne apro un altro E me ne vado ancora E vediamo Chi troviamo Di avanti Oh mio dio Non ci credo Ormai è d'obbligo Andarsi Oh mio dio Oh mio dio Ne credo Non ci credo Non ci credo Fa pure di ma Buono Indovinate un po' cosa faccio Me ne vado un attimo Ne vediamo Ne vediamo un po' No non funziona Royce Royce Oddio Come sta andando Mamma mia Marco Royce Me ne vado un attimo Vediamo chi troviamo Vediamo chi troviamo Non ci troviamo Mannaggia Non è funzionato adesso Ora Mi metto un dici sull'occhio No ho fatto gli scherzi Ora guarderò solamente Il pacchetto Lo guardo Troviamo chi troviamo Aquilani Yoris Dai Dai Troviamo E Yuki Shaki Xerdan E Shakiri Mamma mia Vediamo Kaibi E Menike E Walker E Prandelli Ceci Ceci abbiamo trovato Avevo tutte le scarpe sporche di terra E sono entrati in casa Zabaleto Gwanna Zuma Guardiamo Balzaretti E la Nocchia No Moreno Ma no Io credo in te Pacchetto mio Landreo Chi è? Borini E troviamo Campagnaro Begovic Iricevic Samaris Lovre Kefi Kecia Cos'è Cos'è sull'occhio? Ha un occhiale lotto E vediamo un po' Chi troviamo Varan Zapata Oddio Baccalì Fortissimo E vediamo Chi troviamo Troviamo Uno Cesar Non male Non male Vediamo un po' Chi troviamo adesso Dai 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 Quadrado Ah Suo Oddio Suo E' quel suazo E' quel suazo Dell'Honduras E' lui E' proprio lui E' Bender E' basta Ed in Zeko Valencia Oddio Non troviamo più niente Situazione critica E' nessuno Ancora Dai King Jung Wu Kung Fu Non troviamo niente Bong Bong Oh ma tu ti trova In Cristiano Ronaldo Io no Anche Falcao Andrebbe Vamper Sì Vamper Sarebbe top E troviamo Dai Boccanegra Dai Vorm Bamba Troviamo Bog Poi Bamba Con Incidenze Non credo Ragazzi Ultimo pacchetto Di questo Paco Opening Mio Dio Chiudiamo gli occhi Battiamo due volte le mani Lasciate un bel Mi piace E se l'avete già lasciato Dovete sapere che siete dei Magiconi E adesso Aspettiamo Di trovare un buon giocatore Ritroviamo Wendelfeller Oh mio Dio Asamoah Cocche Mamma mia Mamma mia ragazzi Che super pacchetto Comunque ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Vi esorto O meglio vi ricordi Di lasciare un bel mi piace Vediamo se raggiungiamo I 3500 mi piace Poi Magari anche lasciate un bel commento Già che ci siete E Dunque Detto questo Io vi saluto Vi dico potente Pala al prossimo video Bolla Respira